Si intravede un certo ottimismo nelle previsioni economiche della Commissione Europea, pubblicate il 15 novembre. Dopo aver preso atto del rallentamento degli ultimi mesi, l'esecutivo comunitario si aspetta un rimbalzo dell'attività economica nel corso del 2024. Tensioni internazionali permettendo. Insieme alla Germania e alla Finlandia, l'Italia è tra i Paesi dell'Unione Monetaria che rischiano di registrare la ripresa più modesta l'anno prossimo. In vista del 2024 si prevede dunque una modesta ripresa della crescita grazie ad un'ulteriore riduzione dell'inflazione e alla tenuta del mercato del lavoro.